... Mezzo meccanico in movimento per questa terza del convegno dei Sceni Gentleman con Cavali Anziani 8 in prima, 2 in seconda, dove si gioca un po' a ping pong tra Marlon Noem e Picchengo ma anche Vinicio con la buona Villane ecco sono 3 i cavalli più chiacchierati al totalizzatore arretrato Voodoo dei Greppi numero 8 imitate da Neirito Mecca anche Vinicio, galoppa il 10, zibellino, via la macchina si lotta per il comando, a largo di tutti ritorna Vinicio che ha preso la partenza volante e impegna Nori per il comando, freeway gradato, poi il 4 di Sansone Bar 200 in 13 e 3 e così, fila indiana al completamento della piegata con Vinicio con la Villane in testa, la passionaria che va a completare il quarto iniziale nell'ordine del 29 e 2. Davanti alle tribune grado a piacimenti quindi la Villani con il suo allievo e viene via il 2 di Ron Howard, terza ruota costante invece per gli altri che debbono recuperare per una partenza un po' lenta 45 e 2, 600 penultima curva controllo a Vinicio siamo al completamento del mezzo miglio 1 e 1, 15 e 8 di frazione penultimo rettiline, allargo anche Pick and Go che poi si affaccia un momentino col nasino e punta in avanti seguito da Marlon Noemme chilometro in 1, 15 e 8, 14 e 8 di frazione viene via bene e Pick and Go con il giovane immobile ma anche Marlon viene via bene e Voodoo dei greppi pure ma il cozzoletto al traffico è l'ora di punta per il momento Vinicio allunga mantiene il comando sposta Nori per non rimanere chiuso retta d'arrivo Vinicio al comando in seguito da Nori scappa via la Villani la passionaria viene via la grande Marlon Noemme Vinicio in vantaggio il palo si sta per avvicinare signori non è Gepson ma è Vinicio che si afferma nettamente bella vittoria della Villani signori facciamoci complimenti 1, 59 e 2 1, 14 e mezzo per questo Vinicio un costo costo di notevole efficace va al comando riesce a fare anche un leggero stop and go e qui è la classe della Villani che viene fuori e vince nel più facile dei modi 3,58 in chiusura la quota di Vinicio ricordo che non era Gepson ma questo è Vinicio ma siamo lì due grandi del passato del Napoli che stasera gioca alle 20.45 Vini allo studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti